Esistenze fragili, la condizione giovanile come specchio della società, è questo il titolo del nuovo ciclo di conferenze promosso dalla biblioteca Città di Arezzo che si terranno alla Casa dell'Energia Urban Center di Via Leone Leoni. Tre gli appuntamenti in programma e tre i grandi nomi attesi in città. Giovedì 20 settembre aprirà il ciclo Umberto Galimberti, venerdì 19 ottobre sarà invece il turno di Paolo Crepetta ed infine venerdì 9 novembre arriverà ad Arezzo Giuseppe Derita. I tre grandi intellettuali che si interrogano sulla condizione giovanile ma contestualmente pongono domande a se stessi anzitutto ma anche al pubblico che li seguirà sull'intera società perché la condizione giovanile in qualche misura riflette in forma pura quella problematica diffusa all'interno della società. Il lavoro, oggi il lavoro è un grande problema sociale, la solitudine. I giovani quindi sono esposti ad una condizione di fragilità estrema e da qui nasce il titolo del ciclo di conferenze. Ci siamo voluti concentrare su questo tipo di mission, cioè una sensibilizzazione culturale sulle fasce giovanili ma anche una chiamata alle cittadinanze intere anche perché noi vogliamo fare esclusioni. Questo perché appunto come afferma lo stesso Galimberti ma poi come si vede anche un po' diciamo guardando la realtà di oggi, la realtà attuale, c'è una perdita valoriale in senso culturale a tutto tondo, c'è un po' un abbassamento diciamo di questo tipo di livello e chiamare in una città come Arezzo che ha un grande patrimonio artistico, culturale e ovviamente un background storico importante, chiamare questi personaggi di rilievo nazionale e internazionale fa sì di creare un indotto positivo in cui tutta la cittadinanza sicuramente ne trarrà beneficio.